Ci sono stati e ci saranno contatti istituzionali tra il Movimento 5 Stelle e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivato a Napoli per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici. A gennaio 2019, a proseguito Fico, organizzeremo una manifestazione alla Camera dei Deputati con i membri del Lanci e con i sindaci di tutta Italia. Il presidente della Camera è poi intervenuto anche sulla questione del cantiere della linea 6 della metropolitana in piazza del Plebiscito e sulla smentita del MIBAC alla sovrintendenza sulle griglie di areazione. Stiamo molto attenti perché dobbiamo essere attenti a non perdere i finanziamenti europei rispetto alla linea 6. Quindi qualsiasi soluzione che è nelle prerogative del Comune, del Ministro, della sovrintendenza e così via, devono essere veloci, devono essere fatte da buon senso soprattutto. La presentazione dell'anno accademico dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con l'inaugurazione dedicata al professor Domenico Losurdo scomparso nel giugno di quest'anno è stata un'occasione per il presidente della Camera per parlare di investimenti sulla cultura, definiti più importanti per qualsiasi paese, e di investimenti green, quindi dell'ecotassa voluta dal governo. Sono convinto che le energie degli stati, sia in Europa ma sia nel mondo, vanno su investimenti che siano ecologici, sostenibili e che affrontino la rivoluzione industriale che noi ci troviamo ad affrontare, ovvero abbiamo i cambiamenti climatici e quindi che sono un dato reale e c'è qualcuno che dall'altra parte dell'oceano dice che non sono veri. Grazie a tutti.